Ciao, questa sera vi leggo un'altra storia che non leggevo da un sacco di tempo, che secondo me è bellissima. Ogni tanto mi capita di leggerla magari alla fine delle pratiche in shavasana, così, e la trovo bella, 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 bella. E quindi, trac, ve la leggo. Nell'autunno del 1988, mia moglie Georgia e io fumo invitati a tenere una conferenza sull'amor proprio e sull'efficienza massima a un convegno di Hong Kong. Poiché non eravamo mai stati in Estremo Oriente, decidemmo di prolungare il viaggio e visitare la Thailandia. Arrivando a Bangkok, decidemmo di fare un giro dei più famosi templi buddhisti della città. Insieme con il nostro interprete e autista, Georgia e io visitammo quel giorno numerosi templi buddhisti, ma dopo un po' cominciarono tutti a sgadirsi nella nostra memoria. Tuttavia, vi era un tempio che ci lasciò un'impressione indelebile nel cuore e nella mente. Si chiama Tempio del Buddha d'Oro. Il tempio in sé è molto piccolo, probabilmente non più ampio di 10 metri per 10. Ma entrando rimanemmo sconcertati dalla presenza di un Buddha in oro massiccio alto più di 3 metri, pesa oltre 2 tonnellate e mezzo ed è valutato circa 196 milioni di dollari. Era una visione che incuteva timore, un Buddha d'oro massiccio, dall'aria gentile ma imponente che sorrideva dall'alto. Immergendoci nei consueti compiti dei turisti, mi avvicinai a una bacheca che conteneva un grande pezzo di argilla dello spessore di 20 centimetri e largo 30. Accanto alla bacheca vi era una pagina ad Attilo Scritta che descriveva la storia di questa magnifica opera d'arte. Nel 1957 alcuni monaci di un monastero dovevano trasferire un Buddha d'argilla dal loro tempio a una nuova sede. Il monastero doveva essere trasferito per far posto alla costruzione di una superstrada attraverso Bangkok. Quando la gru cominciò a sollevare l'idolo gigantesco, il peso era così formidabile che la statua cominciò a incrinarsi. Per di più cominciò a piovere. Il monaco superiore, preoccupato di non danneggiare il sacro Buddha, decise di rimettere a terra la statua e di coprirla con un grande telone per proteggerla dalla pioggia. Più tardi quella sera il monaco superiore andò a controllare il Buddha. Accese la torcia elettrica sotto il telone per vedere se il Buddha fosse asciutto. Quando la luce raggiunse l'inclinatura, il monaco notò uno strano bagliore riflesso. Guardando meglio, si chiede se non potesse esservi qualcosa sotto l'argilla. Andò nel monastero a prendere martello e scalpello e cominciò a scrustare l'argilla. A mano a mano che venivano via pezzi d'argilla, il bagliore si faceva più vivido e più esteso. Trascorsero molte ore di lavoro prima che il monaco si trovasse a faccia a faccia con lo straordinario Buddha in oro massiccio. Gli storici ritengono che diverse centinaia di anni prima della scoperta del monaco, l'esercito birmano stesse per invadere la Thailandia, allora chiamato Siam. I monaci siamesi, rendendosi conto che il loro paese sarebbe stato ben presto attaccato, coprirono il prezioso Buddha d'oro con uno strato esterno d'argilla per impedire che il loro tesoro venisse trafugato dai birmani. Purtroppo, a quanto pare, i birmani massacrarono tutti i monaci siamesi e il segreto ben custodito del Buddha d'oro rimase intatto fino a quel giorno fatale del 1957. Tornando a casa in aereo cominciai a pensare fra me. Tutti noi siamo come il Buddha d'argilla, coperti da una crosta di durezza costituita dalla paura, eppure sotto ciascuno di noi vi è un Buddha d'oro, un Cristo d'oro, un'essenza d'oro, che è il nostro vero io. A un certo punto della nostra vita, fra i due e i nove anni d'età, cominciamo a coprire la nostra essenza d'oro, il nostro io naturale. Più o meno come il monaco con martello e scalpello, il nostro compito ora è di scoprire di nuovo la nostra vera essenza. Buonanotte!